5 segni che sei pronto ad amare, ad avere una relazione. Oggi video in macchina perché sì, perché ho girato il video stamattina, l'ho caricato su YouTube e mi sono accorto che non c'era l'audio. Genio! E quindi sono costretto a riregistrarlo al volo. Video in cui parlavo di tutt'altro, cioè nel senso una parte di quel video sta in questo video. Però poi riflettendoci ho deciso di ampliare un po' l'argomentazione. E adesso vi dico il perché. Comunque ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta in macchina. E credo, sono qui su YouTube perché credo fortemente, ce lo diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza di analisi, deve e può arrivare a tutti. E uscendo fuori dalla stanza di analisi si trova in macchina perché psicoterapeuta cretino ha registrato il video senza audio. Comunque stamattina nel video che ho registrato parlavo del concetto giapponese stupendo del kaino yokan. Kaino yokan o kaino yokan, poi i filo giapponesi mi diranno come si pronuncia. Io in un giappone sabruzzese dico kaino yokan. Cioè l'amore a prima vista, che è diverso dal colpo di fulmine occidentale, ma è amore a prima vista. Ovvero proprio quella sensazione che abbiamo quando vediamo una persona, stiamo passeggiando per stata, vediamo questa persona e diciamo cazzo. Con questa persona potrei veramente innamorarmi, potrei veramente amare, potrei perdere la testa. Se iniziassi a frequentare questa persona ti si accendono gli occhi. Magari l'altro non sa un cazzo. Non è il colpo di fulmine che ci si vede reciprocamente, bam, e si inizia una frequentazione. Non è proprio la sensazione che abbiamo quando incontriamo quella persona. E sei pronto, vediamo i cinque segni che sei pronto ad amare, ad avere una relazione. Quali sono? Il primo segno è proprio il kaino yokan, ovvero l'amore a prima vista. Se io sento un amore a prima vista verso una persona, anche se poi non si concretizzerà, anche se non lo conosco, significa che c'è un'apertura in me e se c'è un'apertura in me posso amare, perché amare significa aprirsi a possibilità di qualsiasi genere. Belle possibilità, brutte possibilità, significa aprirsi all'altro, aprire la propria psiche, aprire il proprio nucleo narcisistico agli altri. Solo così posso riuscire ad amare. Come diceva Aldo Carotenuto, l'innamoramento che porta all'amore è proprio una rottura del nucleo narcisistico di personalità. E quindi ecco perché spesso fa male, spesso è quasi una costrizione ed è faticoso proprio per questo, perché io mi devo aprire ed affidare all'altro. E affidarsi è il secondo punto. Io posso essere una persona che non si fida in generale degli altri, ma sono pronto ad amare quando mi affido a qualcuno. Lo riconosco perché poi è qualcosa di quasi irrazionale, no? Io tendenzialmente sono una persona che non si fida perché nella mia educazione base porto tutta quella credenza del fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. E perciò quando sento delle aperture di fiducia irrazionali verso delle persone significa che sono pronto ad amare. Perché senza fiducia non ci può essere amore, senza un affidarsi non ci può essere amore. Ci può essere controllo, possessione, ci può essere ansia, ci può essere gelosia, ci può essere tradimento, ma non ci può essere amore. La fiducia è alla base di una relazione d'amore. Quindi se io riesco a dare fiducia sono pronto ad amare, altrimenti no. Fare spazio, rompendosi il nucleo narcisistico di personalità, crea uno spazio, crea uno spazio interpersonale, uno spazio dentro di me per far posto all'altro. Perché amare significa fare posto all'altro e non sopprimerlo, non soffocarlo, non prendere il posto dell'altro. È un po' un gioco di spazi l'amore. E quindi questo gioco di spazi fa sì che io, poi nella vita quotidiana, non solo mi devo conquistare il mio spazio nella vita dell'altro, ma devo far spazio all'altro, ai propri interessi, ai suoi interessi, alle sue passioni, alle sue difficoltà, nella mia vita. E sono pronto a farlo. È bello a parole, ma poi nei fatti è difficile. Perché io devo far spazio non solo a cose belle, ma anche a cose brutte, tra virgolette, a sofferenze, a difficoltà. Sono pronto a fare spazio alle difficoltà dell'altro? Sì o no? Sono pronto a fare spazio alle caratteristiche uniche dell'altro o a giudicarle? Spesso siamo proprio più pronti a giudicare che a fare spazio. E l'amore non ha spazio per il giudizio, ma ha spazio per gli spazi. Ed è molto differente. Ascoltare! In questo senso è importante l'ascoltare. Quindi sei pronto ad amare se sai ascoltare. E ascoltare è facilissimo. Basta fare una domanda in più. Quindi io quando parlo con gli altri, faccio domande o dico la mia? Perché se dico la mia, non sono pronto ad amare. Se faccio domande, sono pronto ad amare. Perché amare è farsi domande, è avvicenda, sempre e comunque. E essere pronti alla risposta, fare domande è difficile. Perché noi quando facciamo domande, liberiamo dall'altro. Lo regniamo libero. E questa libertà fa paura perché io ti faccio una domanda e poi devo essere pronto alla risposta. Non devo dire non è come dici tu. Non devo dire non è vero. Non devo dire che è una cazzata. Fare domande significa liberare, ascoltare le risposte. E quindi se lo so fare, sono pronto ad amare. Frustrazione, no questa era la 2 perché avevo scritto la 2 e 5. Frustrazione. Devo essere pronto a subire, a sopportare la frustrazione. Perché amare è faticoso, è sacrificante, è contro natura quasi. Innamorarsi è naturale, è animale. Amare è contro natura. E quindi sono pronto a sopportare la frustrazione, della fatica, dell'amore, di una relazione stando dentro. Sono pronto a giocare su di me, a cambiare qualcosa su di me oppure no? Sto lì fermo come un palo, sto impirato a fare la vittima della situazione, a dire eh ma è l'altro, è l'altro, bla bla bla. Se sono pronto ad assumermi le mie responsabilità dentro una relazione, allora sono pronto ad amare. Queste sono le 5 caratteristiche, i 5 segni che definiscono che sei pronto ad amare partendo dal bellissimo concetto giapponese del Kai no Yoka. Ovvero amore a prima vista, quasi un colpo di fulmine che può diventare amore o può diventare un colpo della strega. Dopo questa battutona posso ritirarmi a vita privata. Ho riregistrato il video, spero che ci sarà audio, sarà un audio più pessimo del video di stamattina, ma sicuramente si sentirà e quindi bene siamo tutti felici così. Se ti è piaciuto il video, se hai voglia di amare, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con la persona che vuoi sempre amare e accendi il campanellino e le notifiche per non perdere il prossimo video. Ciao! Nel frattempo ho fatto anche la sauna, nonostante mi sono messo all'ombra, fa un caldo della madonna, perché ho chiuso i finestrini per un audio migliore. Ciao, ci vediamo! Ciao! Ciao!